Amici carissimi, i colori della primavera si accendono oggi direttamente da Toyota Central Motors, appuntamento che non può mancare sui teleschermi di auto occasioni e ci troviamo nella splendida cornice torinese di Corso Ferrucci 24 dove ad aprirci le porte di casa troviamo con grande piacere lui Riccardo Adorno. Ciao Palma, un saluto a tutti gli spettatori. E sono sempre tante le argomentazioni che ruotano intorno al brand Toyota soprattutto se parliamo di ibrido che nasce e si evolve in casa Toyota regalando sempre più soddisfazioni all'interno dell'elegante showroom l'intera gamma che potrete ammirare e provare soprattutto troverete le promozioni firmate a Central Motors. Veramente Palma, vi aspettiamo per tutto il mese di marzo, venite a scoprire le offerte di questo mese, prenotate il vostro test drive su tutta la gamma ibrida, venite e scoprite il prezzo per Yaris Cross, per Yaris, su Rave, su Chacar abbiamo anche delle pronte consegne, vi aspettiamo qui in Corso Ferrucci 24, prenotate il vostro test drive, venite a scoprire il mondo ibrido, il mondo Toyota. Toyota la scelta inevitabile e ora non cambiate canale perché le proposte proseguono, state con noi. E ora amici i nostri riflettori si accendono direttamente in casa Kia, da Kia Torino 1 e ci troviamo in via Cialdini 5 per parlare della splendida gamma Kia, sette anni di garanzia per voi, tutta la gamma da venire a provare e a scoprire, soprattutto le grandi promozioni firmate Kia Torino 1, ma merita la vetrina, l'auto del momento. Sta riscuotendo un enorme successo il must di casa Kia, nuovo Kia Sportage. Sì, grazie Palma, nuovo Kia Sportage, vettura presentata adesso a gennaio, disponibile nella motorizzazione ibrida, ibrida plug-in e anche mild hybrid con il motore diesel per chi ha una percorrenza elevata. Su gamma Kia abbiamo tutti i motori a vostra disposizione, andiamo dal 100% elettrico di Sol, Niro e di EV6, l'ultima nata, per tornare sulle vetture ibride sempre con Niro e poi vetture utilitarie o più grandi come Pica Anterior, disponibile anche con la motorizzazione GPL, o l'Xeed, il piccolo crossover di casa Kia, anche questo con motorizzazione GPL. Venite a trovarci qua in via Cialdini 5, prenotate il vostro test drive, venite a scoprire il sistema di acquisto Kia, la scelta Kia, vi consente di guidare la vostra macchina per 3 o 4 anni e poi decidere se tenerla e sostituirla con una nuova. Vi aspettiamo, venite a scoprire le nostre promozioni. Bene amici, ora il nostro appuntamento prosegue nel mondo dell'alternativa al nuovo, sono tantissime le proposte per voi, autovetture in pronta consegna, chilometri zero, aziendali, usato multimarca, usato garantito, selezionato, avete la possibilità anche di avere l'assistenza proprio nella stessa sede e questo mese, attenzione, grande offerta sulle chilometri zero. Veramente Palma, una grandissima offerta, abbiamo chilometri zero, gamma Toyota, quindi risolviamo tutti i vostri problemi di consegna, parliamo di Corolla, parliamo di CHR18, di CHR2000, parliamo di RAV4, sia due che quattro ruote motrici. Abbiamo una promozione interessantissima, aderendo alla polizza furto, incendio e casco che vi proponiamo, l'antifurto satellitare in omaggio, avete sentito bene, antifurto satellitare in omaggio. Venite a scoprire il prezzo, valutiamo il vostro usato e possiamo anche finanziare interamente la vostra vettura a chilometri zero. E adesso parto con alcuni esempi. E iniziamo con una Corolla Tourist Sport Station Wagon 1.8 Hybrid, chilometri zero, targata a gennaio, venite a scoprire il prezzo di questa vettura, con questa vettura aderendo alla polizza furto, incendio e casco, l'antifurto satellitare in omaggio. Poi andiamo, rosso, CHR2000, versione business, venite a provare questa vettura, anche qui il prezzo è veramente interessante. CHR ne abbiamo altri, sia 1800 che 2000, in più versioni e più colori, qui ne abbiamo uno, lounge, bianco, venite a scoprire il prezzo di questa vettura. Sempre chilometri zero, sempre con la nostra promozione, furto, incendio e casco, l'antifurto satellitare in omaggio. RAV4, versione active, due ruote motrici, abbiamo anche dei quattro ruote motrici disponibili a chilometri zero, vi aspettiamo sempre qui. Corso Ferrucci 24, angolo via Cialdini 5. Cittadina, Lexus, CT Hybrid, versione luxury, full optional, con 86.000 km, vi aspettiamo per farvi provare questa macchina e farvi scoprire il prezzo. 100% elettrica, Nissan Leaf, aziendale, con 10.000 km del 2018, venite a scoprire il prezzo di questa vettura, 100% elettrica. E continuiamo con una vettura veramente introvabile, Prius Plus, 7 posti, Hybrid del 2019, con pochissimi chilometri. Vi invitiamo a vedere questa vettura, a scoprire il prezzo, ancora garantita Toyota. Continuiamo con un ibrido di casa Kia, anche qui recentissimo, Niro Hybrid del 2019, con pochissimi chilometri. Venite a provare questa vettura, venite a scoprire l'offerta su questa macchina. E finiamo questa serie con gli Ares Hybrid, ne abbiamo di diversi colori, di diverse versioni, anni 2017-2018, vi aspettiamo per provare l'ibrido al costo di un usato. E sì, sono sempre strepitose le offerte, sicuramente le auto non mancano, ce ne sono tantissime in pronta consegna, pratiche in sede, veloci per ritirare la vostra auto, garanzia, affidabilità. Non vi resta che venire a scoprire il resto dell'assortimento e soprattutto a cercare la vostra auto, sia nuova che usata, a chilometri zero. Grazie Riccardo, alla prossima. Grazie a te Palma, un saluto agli spettatori. E vi aspettiamo in Corso Ferrucci 24, angolo via Cialdini 5, alla prossima. Grazie a te Palma.